Cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe. Apriamo con il calcio, quella che si aprirà lunedì sarà una settimana davvero importante per la Lucchese. Una volta arrivato il bonifico nelle casse di città digitali, sarà convocata l'Assemblea dei Soci che ratificherà le nomine con le principali cariche, peraltro ormai già scontate. Da lì in avanti, soprattutto il direttore generale Fabrizio Lucchesi potrà occuparsi di mercato, a cominciare dalla scelta dell'allenatore e poi dell'allestimento della nuova squadra che andrà in ritiro a luglio. Intanto domenica sera, terzo turno dei play-off di Serie C, fra le partite che si giocheranno alle 20.30, vi ricordiamo Viterbese-Pisa, Feralpi-Salò-Alessandria, Cosenza-Trapani, Juve-Stabia-Reggiana, Piacenza-San Benedettese. Ancora per il calcio rosso-nero, in casa Libertas femminile, ultima giornata della fase nazionale per le giovanissime che saranno impegnate domenica mattina alle 11 nel derby casalingo allo stadio comunale di Massa Macinaia contro il Livorno. Ancora calcio, mondo calcio Versilia, Wisp, il mondo che vorrei e vecchie glorie, organizzatori del torneo dei quartieri versilesi, non potevano dimenticarsi del presidente della scuola calcio, croceverde, amico, sportivo, persona unica, sempre vicina alla manifestazione, stiamo parlando di Giovanni Poletti, scomparso qualche giorno fa e hanno pensato in tal senso di istituire un particolare riconoscimento a quel dirigente che si distinguerà per impegno sportivo e sociale, appunto il premio nel ricordo di Giovanni Poletti. Ed ora parliamo di eccellenza del Castelnuovo che dopo aver ottenuto la salvezza medita sulla stagione che verrà. Per un intero campionato, quello appena trascorso, il Castelnuovo è stata l'unica rappresentante del calcio nostrano nel campionato di eccellenza. Alla fine del torneo ed è trascorso già più di un mese, la formazione giallo-blu ha ottenuto una salvezza che vale molto considerando le tante vicissitudine, non ultime quelle sotto forma di infortuni. Ma anche un cambio di allenatore, da Michi a Tazioli, a testimoniare che non è stato facile, eppure alla fine Toraini e compagni ce l'hanno fatta a mantenere la categoria, evitando anche sempre pericolosi play-out. Nel frattempo ci sono state ghiotte novità anche al vertice, anzi ai vertici della blasonata società garfagnina. Paolo Lenzi e Franco Beccarelli hanno assunto la carica di co-presidenti, prendendo il posto di Andrea Baiocchi, numero uno per tre stagioni. Chiaro che adesso si guarda anche al futuro e al campionato che verrà. Nei prossimi giorni è prevista un'importante riunione che fisserà il budget a disposizione del direttore sportivo Valienzi per le questioni tecniche che sostanzialmente sono l'allenatore e rafforzamento della squadra. Tazioli o non Tazioli resta da capire che tipo di formazione i dirigenti giallo-blu riusciranno ad allestire, magari in grado di soffrire meno rispetto allo scorso anno. Tra l'altro il Castelnuovo non sarà più solo dopo la storica promozione del Vorno e magari chissà che anche una tra Camaiore e Pietrasanta, a confronto diretto domenica prossima, non riesca a tornare in eccellenza in un campionato più consono al blasone delle due versiliesi. E domani è una giornata ancora importante per il calcio di lettanti. Si giocano infatti diverse partite delle finali play-off e degli spareggi salvezza. Cominciamo dalla promozione al buon riposo Camaiore-Pietrasanta, finale play-off che non darà ancora alla vincitrice la certezza della promozione perché la strada è ancora lunga. In prima categoria finale play-off invece a Borgo Ammozzano tra Pieve Fosciana e Tao Calcio. Seconda categoria finale play-off a Pietrasanta del girone A tra Forte 2015 e Forti Scamaiore e del girone C tra Sporting Calci e Molazzana. In questo caso ci gioca a Saltocchio. C'è anche uno spareggio salvezza sempre della seconda categoria, Lucca 7 e Lucca Calcio che si disputerà a San Concordio. E chiudiamo con il rugby. Rugby Lucca atteso domani ad una probante verifica, ad una gara importantissima. I rossoneri devono vincere ma purtroppo questo potrebbe anche non bastare. Ultima fatica stagionale per il rugby Lucca che domenica alle 15.30 ospita il Firenze 1931. Contro la formazione gigliata, prima in classifica e già matematicamente promossa in C1, i rossoneri sono obbligati a vincere e sperare nella contemporanea sconfitta dei Gispi Tigers alla Spezia. Solo con questa combinazione la squadra di mister Giovannico potrà sopravanzare proprio la formazione pratese e chiudere il campionato al secondo posto che vorrebbe dire promozione. Dopo una prima fase di stagione esaltante che ha portato la squadra ad inanellare 13 vittorie consecutive, Capitan May e compagni hanno subito un brusco calo nelle ultime settimane dove hanno racimolato una sola vittoria nelle ultime quattro partite perdendo peraltro lo scontro diretto con il Prato dopo aver vinto all'andata e scivolando dal primo al terzo posto della classifica. Un calo dovuto sicuramente ad una stagione lunga e impegnativa e all'assenza tra infortuni e squalifiche di diversi titolari nelle ultime settimane. Non tutte le speranze però come dicevamo sono svanite. Ovviamente il pronostico vede Lucca sfavorita in questa difficile impresa. Il Firenze, anche se già matematicamente primo, vorrà chiudere la stagione in bellezza e sicuramente non si presenterà all'acquedotto in un clima vacanziero. Dall'altra parte i Gisby Tigers impegnati sul difficile terreno del Golfo Poeti, dove anche Lucca è caduta la scorsa domenica, daranno il tutto per tutto per rimanere al secondo posto. Bene, tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.